Oggi sto meglio, mi sento più carica diciamo, quindi vi ringrazio tanto, grazie davvero perché si ha aperto un mondo, adesso è solo da applicarlo. Sono contenta davvero. Sì, sì, veramente interessante, caspita, non avrei neanche immaginato. Anche questo di lettura veloce mi ha colpito molto perché bene o male qualcosa sulla memoria avevo frugato, però non bene. Questa della lettura mi ha stupito, sì, perché è stato velocissimo. Un paio di esercizi e subito ho notato il miglioramento, quindi efficacissimo. Dai, hai visto, mi sono inventata un po' di cose pazzerelle, ma sono quelle cose che ti portano veramente ad utilizzare quelle aree che di solito non usi mai. Sì, e poi la pratica secondo me è la cosa migliore perché siamo abituati alla teoria, soprattutto all'università, e si applica poco. È tutto molto teorico, quindi mi è piaciuto davvero tanto. Grazie. Grazie. Grazie.